Alla cassa, stiamo da Marta in un momento in atto sportivo, vicino al campo di una prigioniera. La chiave nera, diciamo, è un portacchiavi per un simbolo di piense rispetto a piense. La chiave la trova alla cassa bianca in mezzo al campo sportivo, tendone bianco nel campo sportivo. Allora, ragazzi, la chiave di un scooter, di un armadietto, una palla di questo genere. Viene colpito qualsiasi parte del corpo e la palla cade, è preso, io fischio, palla a lui che è preso, va in prigione dietro la riga e può prendere subito, eh. Io non faccio di partire il gioco, il tempo va avanti, quindi appena non supera quella riga si gioca. Se lui prende un bimbo di tornate, non è libero, resta in prigione. Il bimbo di tornate, io fischio, prende la palla, va di là e fa la stessa cosa. Dovete fare attenzione perché c'è la palla che ne è presa al volo, che ti ha lanciato e ne è preso, ok? Anche se me ne lanciava, superava le righe. Quindi se, guardate me, io sono qua, devo lanciare di là, per lanciare faccio colpi, e lui la prende al volo, io sono preso, vado in prigione, se io la lancio di là e lui l'è preso perché non la prende al volo, non vale perché ho superato la riga? No, perché sei in attacco. Se invece lui per scappare esce dal campo, io la lancio, anche se non lo prendo, lui è uscito dal campo quindi va in prigione, ma fischio io. Ogni volta che io fischio vuol dire che uno è preso, va bene? Invece se la palla è qua, la prende a quadra, quindi se la palla è qua, la prende cornate, vabbè perché ti fa cornate, se è di là la prende locale, se è oltre la riga della prigione, è la palla alla prigione. Eh, facciamo qua il risparmio, se io ne prendo due, uno, due e la palla cade, e siete presi in due, se io faccio uno, due e lui la prende al volo, sono preso io. Certo, è un falso prigioniero iniziale. Non c'è libera, appena c'è uno preso, in questo momento si ha preso e va bene, non c'è un falso, non c'è un falso, non c'è un falso, non c'è un falso, non c'è un falso. Sei, al massimo sei passaggi, al massimo sei. Ci sono pazienti, non c'è un falso, non c'è un falso, non c'è un falso, non c'è un falso. E' come se lo sei preso a loro? Sì, no, subito, appena io fischio, perché uno va in prigione. Appena supera, il filo per esempio lo può prendere, però appena uno della palla è preso, torna di qua in campo, ok? Quando finisce il gioco, saldi per me, dobbiamo portare con il campo. E' al massimo sei. Dovete fare, fate gli iscoli per la palla e il campo. Arroggio! Sì, no, non c'è un falso. Sì, no, non c'è un falso. Non c'è un falso. Sì, no, non c'è un falso. Non c'è un falso. Non c'è un falso. Il pubano è una palla campo. Non c'è un falso. Ti ha vinto? Palla campo. Palla campo. Palla campo. Bravo, Bruno. Aspetta che do il via, eh. Non c'è un falso. Non c'è un falso. Non c'è un falso. Ho dimenticato il campo. Non c'è un falso. È un falso. Già un falso. è andata la linda Leo siamo pronti? 3, 2, 1 buona occhio alla riga occhio alla riga balla qua la riga balla qua vai 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 gioca gioca non tocchiamo la palla che se oltre la riga poi è diventato lasciala giù lasciala giù buono alla giornata balla cornate la riga dai dai veloci veloci passatevela passatevela occhio alle righe anche per scappare occhio alle righe balla gialla balla gialla ancora subito subito dai 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 subito dai che sono qua vicino prigioniero 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 dai 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 da al pass iniziale Danza, ragazzi! Prendi, prendi, Ellen! Bravo, passate! Alla gamba! Alla gamba! Alla gamba! Subito, subito! Ehi, piede! Chi la passa di qua, passa, così non può essere andato al volo. Così come ho fatto io. Così come ho fatto lui, tiratela! Occhia le righe! Adesso ci accorgiamo di fare. Occhia le righe! Bravo! No, no, no! Giocca subito! Palla, giornate! Vai, vai! Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Non ci accorgiamo di fare il mio tempo, ragazzi! Non sta! Palla, non lo stanno a terrazzo. No! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Grazie a tutti. 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 Palla loro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. a tutti.